Musica Buonasera e bentornati a Talk Sicilia un caloroso buon ritorno a tutti quelli che ci seguono dal canale di Videoregione il canale 14 di Digitale Terrestre un abbraccio affettuoso a chi ci segue sulla pagina di blog sicilia.it ma direi di saltare subito i preamboli e andare subito al cuore della puntata perché oggi parliamo del grande spettacolo che è il ritorno e per questo cedo la parola a Massimo, Massimo Minutella nostro grande amico, nostro ospite ritorna il grande festival sì, sì, torna il festival, intanto grazie per questo invito giochiamo in casa sì, giochiamo in casa, ci dobbiamo divertire oggi in questi eventi giochiamo in casa beh, insomma sì, avevo tu l'avevi messo a parte il festival, non volevi più non volevo più farlo l'ultima edizione, quella di maggio 2022 nell'ultima serata ho avuto un momento di scoramento, di stanchezza una sorta anche di, come dire, senso di abbandono dobbiamo spiegare, perché in realtà il festival è un grande progetto anche culturale, diciamoci, non solo spettacolo, ma anche culturale che tu porti avanti da una dozzina d'anni ma non ti ha mai aiutato nessuno cioè le istituzioni che... beh, guarda, le istituzioni solo se tu vai a cercarle solo se cerchi sempre di metterti lì, no? una sorta di goccia che, ecco, allora uno si aspetta sempre io sono una sorta di piccolo sognatore è caso originale di non chiamarsi Moia, facciamo stati la politica eh sì, no, sai, viene voglia ogni tanto di dire guarda, c'è questa persona, lasciate a perdere che sia io vale per te, vale per qualunque altra persona che fa una cosa che oggettivamente funziona da 11 anni che è piena di gente, che ha consensi televisivi, plebiscitari con artisti più famosi, più importanti della terra di Sicilietta aspetti che succeda qualcosa, poi non succede mai niente allora lì viene voglia di stare a bandiera poi sono stato avvolto dall'affetto delle tante persone che mi hanno scritto soprattutto poi dei miei effetti più cari quelli che vivono la mia quotidianità dicendo, dicevano, non gliela puoi dare vinta e quindi siamo pronti per raccontarvi che il 13 e il 14 torna la edizione numero 11 di Festival sono felice di raccontarvi che torniamo in diretta su Videoregione la mia casa televisiva, come la chiamo io quindi il 13 e il 14 di giugno saremo in diretta 14 artisti in gara e voi da casa potrete scegliere il vostro beniamino attraverso il numero Whatsapp, il codice di Televoto quindi Artista Bra peraltro credo che sia anche giusto spiegare a chi ci ascolta soprattutto il pubblico di Videoregione è la prima volta che va su Videoregione o anche l'anno scorso? no, no, questa è la terza volta di Videoregione quindi è un appuntamento che è anche... 3 o 4 ma per chi magari non conoscesse ancora come funziona il Festival ci racconti com'è nata questa idea di Festival e come funziona la gara? guarda, io ho preso consapevolezza dieci anni fa che non condurro mai il Festival di Sanremo cioè io sono sicuro al 100% che io non condurro mai il Festival di Sanremo allora vi sono detto tra me, ma sapete che c'è? io mi faccio il mio Festival quindi un'emulazione vera e propria al Festival di Sanremo quindi la gara, una grande orchestra, un teatro, la diretta televisiva ogni artista avrà un codice di Televoto il Televoto e poi chiaramente la grande musica le canzoni che verranno scelte, che vengono scelte poi da me da direttore artistico e dagli artisti io che lo conduco, che in qualche maniera lo dirigo artisticamente e quindi facciamo il vero Festival di Sanremo solo che, anziché mettere in gara cantanti professionisti io ho deciso di mettere in gara conduttori, attori, comici della nostra terra di Sicilia il fior da fiore dell'arte siciliana, dell'arte televisiva beh sì, insomma, io mi onoro di essere amico di tanti artisti che da 11 anni vengono coinvolti da me e che vengono a giocare, a partecipare con grande gioia un'informazione importante sei tu che scegli le canzoni o sono gli artisti che te le propongono? io parto da un'idea e dico all'artista, per esempio quest'anno in gara ci sarà Maglio Dovì Maglio Dovì è un grandissimo performer un attore incredibile, uno che canta benissimo ha fatto anche tale e quale show di Carlo Conti quindi è uno che sai che può fare è uno dei veri eredi di Alighiero Laschese un grandissimo imitatore anche assolutamente per cui sapevo già che potevo chiedergli di fare Spalle al muro di Renato Zero quindi tu immagini la canzone la disegni sul personaggio sì, io immagino che quella canzone lì può essere nelle corde di quell'artista l'artista la valuta e poi decidiamo insieme comunque sì, parte da me l'idea poi l'artista la fa sua nel caso in cui decide di farlo poi magari c'è anche chi mi dice no, guarda, non è proprio indicata a me però per esempio appunto Spalle al muro la potrebbe cantare quest'anno solo ed è scusante Maglio Dovì così come La terra dei cacchi di Elio di Astorietese la può fare Ernesto Mario Ponte che è uno che comunque viene dalla scuola di proietti sa come si canta e in levare peraltro quindi è ancora più difficile allora non diamo vantaggio a nessuno ho già invitato due concorrenti quindi Ernesto Maria Ponte e Mario De V esatto hai dato anche l'indicazione delle canzoni con cui si esibiranno esatto facciamo diciamo un piccolo resume di chi saranno gli ospiti di questa edizione abbiamo preparato per Talk Sicilia una JPEG saluto Saverio, Falcone, Fabio Lavantia questo è il cast artistico e le canzoni che sono state scelte quest'anno ci saranno Salvo La Rosa e Giuseppe Castiaco Non si cresce mai I Quattro Gusti Ringo Starr Ponte e La terra dei cacchi Canebbe e D'Angi Madeniteli Antonello Costa che debutta al festival con il Garibaldi Innamorato Rossella Leone e Clelia Cucco con Furore di Paola e Chiara I Respinti canteranno Ti può dare di più Morandi Tossi Ruggeri La Chiavetta Sara Priolo e Moni Arizzi canteranno Ciao Ciao della rappresentante di lista Gino Carista e Caterina Saremi faranno Felicità di Albano e Romina Lollo e Nicola Franco faranno Chiamami Ancora Amore questa è una bellissima novità perché Lollo porta sul palco il figlio Vita Spericolata Paride Benesecco Cogulotta Ivan Fiori e Lupetto Supereroe di Mr. Rain canzone che ha spopolato quest'anno a Sanremo Massimo Spata Porta Modugno con Il Blu dipinto di Blu e poi l'abbiamo già citato Maglio Dovì con Spalle al Muro di Renato Zero e quindi c'è veramente una ricerca storica del medio di Sanremo sì sì è vero quello che dici e ti ringrazio per averla sottolineata questa cosa sono le canzoni bellissime che hanno fatto la storia e il regolamento che poi non c'è un regolamento vero e proprio scritto comunque in qualche maniera è un'idea il regolamento prevede che le canzoni che debbano partecipare a questo festival debbano avere almeno una volta partecipato al festival di Sanremo dall'esordio dagli inizi fino all'ultima edizione però diciamo c'è anche un piccolo segreto ogni anno Gino Carissa che è un grande cabaretista cindiano tenta di fare numeri falsi tenta di vincere ci sono le vostre chat private già Gino è una delle lui quest'anno aspetta cosa canta lui farà Felicità di Albania e Romina in coppia con Caterina scusa mi gliela hai proposto sì sì loro sono i unici due Caterina e Gino ai quali non chiedo valutazioni la canzone è questa si fa questa e devono fare quella però loro sono non me ne vogliono tutti gli altri che hanno partecipato in gara sono i due che hanno capito veramente come funziona ieri frega niente della gara Gino l'anno scorso ha fatto il penultimo posto ed era super felice era super felice era super felice da quanti anni partecipa Carista tutte le edizioni tutte tranne una ne ho fatte dieci ma secondo te prima o poi riuscirà a vincere un festival guarda quest'anno negli ultimi due nelle ultime due edizioni per motivi pandemici avevo tolto ho dovuto togliere la giuria di qualità quest'anno torna la giuria di qualità per livellare coloro come Gino Caterina e qualcun altro che non ha una rilevanza forte sui social perché chiaramente chi ha i follower che ha i propri follower votatemi anche se magari non li hanno visti piace vincere facile sì allora quest'anno invece ci sarà una giuria di qualità qualche discrezione anche sulla giuria di qualità è già qualche idea che vorresti invitare sì no ma insomma siamo già avanti insomma salvo imprevisti lo dico dell'ultimo momento in giuria ci saranno Roy Paci Stefania Petix ah vabbè quindi come dire Roy Paci un pilastro della musica siciliana comunque ci sarà Riccardo Gazz di Radio Vela Fabio Pellerito in Radio Time ci saranno ecco persone che hanno a che fare col mondo della musica dell'ascolto anche qualche imprenditore perché chiaramente il festival è possibile farlo grazie all'aiuto e al sostegno di imprenditori privati che promuoveranno le loro aziende quindi magari il patronne di qualche azienda che ha voglia di giocare con me lo metteremo lì e quindi ci sarà questa giuria di qualità che avrà un peso del 50% sulla giuria parliamo un pochettino di Massimo Minutella è come viva il festival qual è la canzone alla quale si è più affezionato del festival di Sanremo? ma guarda una nello specifico non c'è nel senso che ogni anno il festival mi dà sempre una canzone alla quale sono mi leggo particolarmente io sono un melomane nel senso che a me piace la melodia italiana io credo che la melodia italiana debba essere tutelata salvaguardata per cui il festival di Sanremo non sta andando in questa direzione per dire il vero no però poi purtroppo nessuno si accorge che la canzone più amata dal festival di Sanremo è Supereroi di Mr. Ray che è una bella melodia italiana anche se lui è giovanissimo e parla ai giovani esattamente infatti lì entrano proprio non è che sia la canzone strutturata aveva quattro accordi aveva una melodia pazzesca e poi al di là del testo perché poi le canzoni italiane a me piacciono più chiaramente le straniere perché comprendi quello che ti stanno dicendo quindi ogni anno c'è sempre una canzone del festival che mi rimane particolarmente ma se te ne dovevi dire una sicuramente è una canzone non conosciuta dal grande pubblico che è il capo dei giocattoli di Maurizio Lauzi che è il figlio di Bruno Lauzi che si presentò a Sanremo era tra i giovani il capo dei giocattoli vinse peraltro quell'anno il premio come miglior arrangiamento della canzone bellissimo prima di dotare un 10 perché mi hai colpito sono assolutamente impreparato il capo dei giocattoli dovrò andare subito a ricercare questa canzone a capire andatemela a cercare io conosco il gusto di Massimo Minutella l'ho scoperto lavorando abbiamo lavorato anche spettissimo insieme che i nostri gusti musicali molte volte coincidono con l'imano ogni tanto tu metti una base e dico eccola esatto esatto perché ci tengo a precisare che il festival è tutto live quindi tutti cantano dal vivo tutti cantano con una grande orchestra e saluto e ringrazio il maestro Massimo Scalici che mentre vi parlo è al lavoro a scrivere e arrangiare perché lui ha il compito di dover scrivere le partiture per ogni singolo strumento anche perché sembra facile far cantare degli artisti che non sono dei cantanti professionali no no infatti te lo dico guarda perché bisogna fare gli arrangiamenti di tutte le canzoni modulandoli sulla voce dei cantanti su quelle voci lì non è facile non è facile e noi suoniamo tutto dal vivo ci tengo a precisarlo perché a volte ci sono degli strumenti che ti permettono di avere le sequenze i compionamenti e così via cioè noi il festival lo suoniamo tutto dal vivo ci manca soltanto Morgan a questo punto io ci ho lavorato con Morgan l'ho portato a Scruscia in un'edizione e quando ci salutammo in aeroporto gli dissi perdiamoci di vista perché perdiamoci di vista gli ho detto Marco perdiamoci di vista e non ci siamo più non vi sei più visti non vi sei più visti non ci siamo più un rapporto molto semplice a gestire è complicato preferisco già c'ho l'ansia per alcune cose figuriamoci lavorare come perché diciamo è una mina vacante no vabbè cambiamo argomento ti prego cambiamo argomento ti prego allora continuiamo in questa diciamo ricerca per far capire che cosa è veramente il festival ideato a Massimo Minutella la domanda che ti faccio adesso è quanta competitività c'è all'interno di questo gruppo di artisti che mettono in gioco non dico la reputazione ma sono tutti amici in sostanza quelli che competono in queste gare ma non è che il fatto che sia un festival dove non vince il cantante ma vince il presentatore piuttosto che il campanettista guarda Piero allora con grande onestà tutti vengono intanto per affetto nei miei confronti perché lo dico gli artisti partecipano in quasi tutti tranne qualcuno qualche piccolo rimborso così ma niente di che a titolo assolutamente gratuito chi viene giustamente ci tiene a fare bella figura nessuno di questi ha intenzione di venire lì e pestare una una allora ognuno si impegna si impegna al massimo nel look nella scelta del canto c'è qua anche gente che è andata da coach qualcuno è andato a incontrare un coach per imparare a cantare e la gara c'è è vera io pensavo che non ci fa invece la gara c'è ognuno che partecipa ci tiene non ti dico a vincere quanto farebbe la figura poi invece tra i 14 c'è sempre qualcuno che ci tiene particolarmente c'è stata gente che per qualche periodo di tempo non mi ha neanche salutato perché pensavo che io pilotassi il festival ma posso garantirvi che all'ultima edizione quella di maggio 2022 in due serate abbiamo raccolto qualcosa come 10.000 persone che hanno votato da casa che non è poco no non è poco non è poco se considerate sempre la scala regionale quindi non è poco e poi 10.000 persone significa c'è un bacino d'utenza almeno 15 20 30 volte più grande un'immagine che sia tanto perché comunque quest'anno si potrà votare sia sulla piattaforma del sito di videoregione wr sicilia.it sia tramite whatsapp abbiamo lo stesso numero che il 328 644 2021 la gente da casa potrà votare il suo artista preferito un altro piccolo mistero da svelare di questo grandissimo spettacolo che mi hai messo sono le tue meravigliose giacche fosforescenti ma non sono fosforescenti ma come fanno le vai a scegliere quanto tempo ci impieghi per scegliere il tuo look perché anche tu devi fare la figura del bravo presentatore come diceva Frassi no io mi avvalgo di persone che mi danno una mano c'è una persona a me molto cara che è un'azienda che si occupa proprio di questo si chiama Colette Sposi e proprio per due anni di filo ho indossato degli abiti di Carlo Pignatelli bellissimi che non sono fosforescenti sono damascati che è completamente diverso quest'anno ho già idea di come vestirò ho già fatto le prove di costume ho già le sarte che stanno testendo quest'anno peraltro ho un abito che è stato fatto appositamente per me e cosa manca secondo te al festival per fare magari un salto di qualità o questa ritieni che sia la dimensione corretta di questo spettacolo io lo dico adesso a distanza di 11 anni io se mi guardo indietro e guardo a come eravamo io sono partito dal nuovo Monte Vergini che poteva contenere non più di 250 persone con un palco modulare piccolissimo senza alcuna profondità oggi sono al teatro al massimo di Palermo che è il più prestigioso di Italia quindi con lo sforzo tecnologico imponente volevo dire proprio questo non è questa la misura che mi piacerebbe avere perché siamo risicati quei tempi entriamo a teatro un giorno prima invece duramente a teatro un paio di giorni prima ma tutto questo ha dei costi che a volte diventano insostenibili e quindi si ritorna al punto di partenza di questa puntata questo fu il motivo che sostanzialmente ti portò a mollare la presa il festival è lo dico senza alcuna presunzione è un piccolo miracolo un piccolo miracolo di carattere artistico di carattere economico di carattere strutturale fatto di persone che credono in quello che stanno facendo e si mettono in gioco con me da chi monta audio e luci c'è abbia quest'anno una struttura avremmo 8 metri quadrati di Redwall gli artisti stessi i musicisti l'orchestra se dovessi tenere conto di tutte le ore di prove che fanno della stesura delle pare non ci sono soldi per poterle pagare e allora chi partecipa partecipa con questo spirito goliardico ma allo stesso tempo mi piacerebbe un giorno avere quella giusta come dire corrispondenza economica tale da poter immaginare di farlo certo chiaramente tu non ne parli per un fatto di egoismo di cinismo no no a me non me ne frega niente come le immagini tu come le sogni tu io immagino per esempio che il festival se si fa il 13 al 14 giugno il mio desiderio è entrare a teatro almeno il 10 di giugno tre giorni prima per allestirlo per sistemarlo per fare le prove noi entriamo la mattina del giorno prima e il pomeriggio facciamo le prove e il giorno dopo siamo in diretta e questo comunque è una grande dimostrazione di professionalità da parte di tutti e da parte degli artisti da parte di tutti io ne approfitto per ringraziare non lo faccio mai perché lui non ha mai essere citato a Medeo Culotta che è il miglior direttore di produzione che abbia mai avuto è colui che sta lavorando alla produzione del festival le misure questo quello lo sponsor e tutto il resto io avevo deciso di non farlo più poi lui mi ha convinto ho detto lo faccio io tu vieni a fare solo il presentatore e il direttore artistico e così sarà speriamo bene ci ricordi un po' chi sono i vincitori delle prime edizioni magari facciamo questo salto indietro nel tempo allora la prima edizione la vinse Ernesto Maria Ponte gli chiesi ad Ernesto di portare in gara una canzone di Francesco Nuti che si chiama Sarà per te che è un canzone un povero Francesco Nuti sì sì una canzone bellissima poi vinsero nel tempo di Nuovo Ponte con Occidentali Scarma un'edizione l'ha vinta Giovanni Cangelosi con l'essenziale di Marco Mengoni un'altra edizione fu vinta da I Quattro Gusti con Una Vita in Vacanza un'edizione l'ha vinta dei soldi spicci con Vorrei incontrarti tra cent'anni Ron il tuo grande amico Ron il tuo grande amico Ron e poi due edizioni sono state vinte da Riccobone e Clun la prima con Imaneskin la seconda con Blanco e non mi ricordo l'altro che è Blanco e Mahmood esattamente ma in realtà quindi tra le canzoni vincitrici del festival non c'è una canzone vincitrice del festival di Sanremo questo è un dato interessante no è successo sì è successo l'anno in cui vinsero Mahmood e Blanco vinsero quelli l'anno che vinse Occidentali Scarma vinse Ponte l'anno che vinsero Imaneskin vinsero i Riccobone e Clun quindi c'è stato qualche anno c'è una corrispondenza sì questo vuol dire che i gusti del pubblico sono sempre quelli perché il voto del pubblico per forza il voto del pubblico ha inciso tantissimo ripeto io non mi sarei mai aspettato che in due sere votasse così tanta gente sono sincero questo anno hai portato una chicca hai portato una chicca di uno dei più bravi cantautori milanesi di tutti i tempi di Pecchioni sì quest'anno Nicola e Lollo padre e figlio hanno deciso insieme a me di portare Chiamami ancora amore una canzone che peraltro avevamo già fatto qualche anno fa con Marco Manera non aveva vinto però aveva fatto un'interpretazione bellissima il festival è altalenante momenti di leggerezza ti posso fare una domanda perdonami se ti interrompo no no ho visto che la canzone di Pecchioni la cantano Lollo Franco col figlio sì ma è una scelta che fanno per dedicare alla vicenda di Pecchioni che ha perso il figlio recentemente no 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 è una scelta non è una dedicata a Pecchioni no insomma è un confronto generazionale se ascolti bene la canzone la canzone è un confronto generazionale di un professore di un padre che parla a un figlio e dice chiamami ancora amore esatto sì sì no no non ha niente a che vedere con la verità non è una dedicata no 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 ti ho interrotto mentre stavi dicendo una cosa importante no 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 stavo dicendo soltanto che il festival così come il festival di Sanremo Vero e Proprio ha una sua architettura musicale non puoi fare tutti i brani lenti devi oscillare tra brani lenti brani più ritmati quindi passi da Chiamami Ancora Amore a Made in Italy di Rosa Chemical dove Carlo Canebbe e Giovanna faranno scoppiare il teatro o Ringo Starr dei pinguini tattici nucleari che faranno i quattro gusti ecco si oscilla da momenti intensi a momenti un po' più goliardici massimo del tempo con te è volato via sempre è soltanto come dire resta il tempo di salutare il nostro pubblico e darci appuntamento quindi 15 e 14 ricordiamo tutto e poi un'informazione anche per chi da Palermo volesse andare al teatro a guardarlo allora i biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro al massimo fino ad esaurimento delle scorte ne metteremo in disposizione quanti più possibili ed è completamente gratuito nessuno pagherà un centesimo per entrare a teatro invece per voi che ci state seguendo in questo momento in tv saremo in diretta su Videoregione canale 14 esattamente dove ci state guardando adesso se ci guardate in tv poi è in contemporanea sul sito wr sicilia.it 13 14 di giugno a partire dalle 21 e 15 saremo rigorosamente in diretta a me il compito di fare da come dire parcheggiatore abusivo in mezzo a tanti artisti che canteranno basta non sei un parcheggiatore abusivo sei un brevissimo la mia dicitura secondo me questa cosa del parcheggiatore abusivo lo dice anche un po' per scaramanzia secondo me ti porta anche un bello io la dico proprio perché lo penso lo penso veramente quindi vi aspetto numerosi così esattamente come siete stati gli altri anni saremo anche in diretta facebook sulla pagina del sottoscritto Casami Nutella saremo in diretta anche sul canale youtube di blog sicilia quindi saremo distribuiti a più in un posto quindi vi aspetto allora Massimo ti ringrazio grazie Piero allora io verrò a disturbarti no vengo sicuramente per divertirmi perché i tuoi festival sono sempre bellissimi è molto divertente è molto divertente lo dico con grande onestà quest'anno sono orgoglioso del cast perché ci sono veramente artisti che stanno facendo i soldati in tutta Italia ho il tempo per l'ultima domanda vai questa edizione per te è forse anche un po' una rivincita no? te lo dico quando l'ho fatta che può essere pure che magari preferisco farla nel senso non sono non è nel tuo canale in realtà non è nella tua cifra caratteriale non c'era ancora l'ho pensato perché una bambina di 5 anni di nome Cocò e la sua zia Claudia mi hanno detto Max scusa ma è possibile che tu ti privi di una cosa che ti fa divertire ti fa piacere e quindi mi sto rimettendo in gioco vediamo che succede allora ringraziamo Cocò per averci grazie Cochella il festival di Massimo Minutella e ci vediamo il 13 e il 14 giugno qui sul canale 14 del Digitale Terrestre su Videoregione buona serata a tutti arrivederci ciao